Theater, art, school, tourism and joy, in una parola taste, letto all'inglese col significato di gustare. E' questo il nome del festival dedicato alle compagnie teatrali scolastiche pugliesi, che si terrà al teatro Traetta di Bitonto dal 5 al 10 maggio. Il progetto, nato da un'idea dall'associazione culturale bitontina Xantia, è patrocinato dal comune, dal teatro pubblico pugliese e dall'ufficio scolastico regionale. Noi abbiamo presentato un bando a tutte le scuole superiori pugliesi, a questo bando hanno risposto più di 20 scuole, però noi ne abbiamo selezionate sulla base del progetto, del materiale, insomma audio-video che ci è arrivato, ne abbiamo selezionate solo 10. Sono 10 scuole provenienti da tutta la Puglia, abbiamo una scuola di Lecce, di Taranto, di Maglie, Altamura, Corato, Terlizzi, Andria. Durante la 5 giorni, tra il 5 e il 10 maggio, previste anche visite guidate nel Borgo Antico. Attraverso questo progetto noi intendiamo lanciare sia ovviamente la pratica teatrale, ma soprattutto lo sviluppo popoculturale del territorio attraverso l'educazione al turismo, ma soprattutto alla cultura, attraverso la conoscenza dei beni del nostro patrimonio storico-artistico locale che sono piuttosto stratificati e variegati nella loro complessità e il nostro compito sarà cercare di lasciare nei ragazzi una sorta di memoria, di traccia visiva, ma anche emozionale di quello che loro potranno osservare durante i mini-tour che proporremo, in modo tale da poter loro veramente lasciare un'esperienza completa, culturale, proprio a 360 gradi. Grazie